Musica Secondo tempo di Sipario, seconda parte dell'appuntamento con il Cinema di Cusano Italia TV dopo aver ripercorso insieme le emozioni del Festival del Cinema di Venezia della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia più che altro ci siamo preparati alle emozioni che vivremo in sala provenienti dal Festival di Alberto Barbera e dopo il doveroso ricordo della regina Elisabetta un altro festival adesso protagonista qui a Sipario nella splendida cornice di Villa Medici qui a Roma si intitola il Festival di Film di Villa Medici ed è un festival che è giunto alla sua seconda edizione un festival molto particolare perché ha uno sguardo secondo me molto attento e molto specifico su quelle che sono le nuove direzioni che il linguaggio cinematografico sta intraprendendo il cinema sta cambiando, ce ne rendiamo conto quotidianamente noi tutti siamo ormai fruitori di film e di serie televisive, di audiovisivo in generale non soltanto sui grandi schermi delle sale cinematografiche ma anche ad esempio sui piccoli schermi attraverso lo streaming piccolissimi in alcuni casi nel caso dei nostri telefoni, smartphone e tablet e il Festival di Film di Villa Medici è un festival che ha come tutte queste nuove tendenze stiano influenzando il linguaggio del cinema e il modo in cui il cinema viene fatto presta uno sguardo particolare, il ruolo del digitale e come il digitale sta effettivamente cambiando la forma espressiva del cinema come questo sguardo si sia poi tradotto nelle tre sezioni che compongono questa seconda edizione ce lo facciamo spiegare da un membro del comitato organizzativo del Festival di Film di Villa Medici ovvero Lili Hunstein che abbiamo il piacere di avere qui a Sipario Buonasera Lili Buonasera Lili, partiamo dalla competizione internazionale innanzitutto il primo elemento, prima di entrare magari nel dettaglio di alcuni titoli che colpisce è la presenza di tutta una serie di film, di tutta una serie di pellicole appartenenti ai generi più diversi non c'è assolutamente distinzione come invece troviamo solitamente nei festival ad esempio tra cinema documentario, tra cinema di finzione, tra lungometraggio, mediometraggio, cortometraggio non abbiamo minimamente questo tipo di distinzione sono film che provengono da appunto generi molto diversi ti chiedo innanzitutto il perché di questa scelta di non incasellare il cinema in queste sezioni ma di vederlo nel suo insieme proprio come l'hai ricevuto tu o l'hai intuito guardando la nostra proposta si tratta per noi di presentare al pubblico una specie di una raccolta di film che magari potrebbero rispondere alla domanda cosa può il cinema e per noi cosa può il cinema significa cosa può un regista o una regista raccontare in un determinato contesto cioè in un determinato spazio, paese uno non racconta la stessa storia se viene da Hong Kong o se viene dalla Nigeria o se viene dal Vietnam e anche un determinato contesto e anche appunto una determinata epoca se un regista lavora in un paese in guerra per esempio o se è un paese che vive una crisi economica o anche situazioni meno drammatiche però per noi la cosa interessante è capire quale linguaggio cinematografico si può inventare in tutte le parti del mondo Ecco hai detto una frase fondamentale che io ripeto spesso il cinema è sempre un prodotto del proprio spazio e del proprio tempo non avremo mai due film come hai detto tu raccontati da registi di provenienza diversa o di epoche diverse per quanto magari due film sullo stesso tema che siano identici tra di loro questa distinzione quanto è importante secondo te a maggior ragione oggi che è molto più facile tra virgolette però è molto più possibile fare cinema da qualsiasi provenienza sociale, da qualsiasi provenienza geografica da qualsiasi provenienza anche anagrafica perché vediamo film fatti magnificamente ovviamente anche con delle possibilità anche da registi particolarmente adulti e registi anche molto giovani Sì questo rappresenta per gli amanti del cinema una ricchezza straordinaria non sia mai vista prima cioè il fatto che l'industria cinematografica non sia più diciamo riservata ad un certo ambiente nel quale è sempre stato difficile entrare, inserirsi a livello sia professionale che anche economico noi appunto riceviamo questi gesti da tutto il mondo e cerchiamo di riproporne una parte che ci sembra pertinente, forte, ricca, piena di emozioni e anche di sperimentazioni formali al nostro pubblico romano mentre appunto essendo in questo punto di vista in grado di presentare al pubblico dei film con diversissimi background cioè hai un film di finzione prodotto nella maniera più classica che fa anche parte del concorso ufficiale della Mostra di Venezia che citavi prima così come un film girato in video da un giovanissimo regista indiano degli Stati Uniti o da un artista riconosciuto nel suo ambiente che però usa per la prima volta la cinepresa come mezzo d'espressione e tutti questi film secondo noi possono raccontare un incontro con una persona più che altro vedere un film è sempre incontrare una persona una persona che dal proprio paese, come dicevi tu, dal proprio spazio e tempo offre e condivide con noi uno sguardo sul mondo Ecco Lili, ti faccio a questo proposito l'unica domanda un po' antipatica di questa intervista lo prometto perché è vero, ci sono queste sollecitazioni, questa moltiplicazione di sguardi che il cinema effettivamente oggi sta offrendo e il festival appunto come il festival di film di Villa Medici gli danno questo spazio, ma parlando di industria tu sei stata anche direttrice di un festival importante come Locarno l'industria ti sembra ricettiva, ti sembra pronta ad accogliere questa molteplicità di sguardi o forse ancora si rischia di essere un po' pigri, diciamo, su questo tema? No, l'industria, per esempio, l'industria lavora in determinati, diciamo, in determinate cornici per esempio, l'industria non considererà mai un film di 12 minuti però noi nei confronti dell'industria siamo in grado di proporre questa cosa che diventa e diventerà sempre più importante che è la curazione di un programma cioè una cosa che avrete letto su giornali internazionali anche recentemente tutte le polemiche sulle piattaforme eccetera anche credo Julian Moore l'ha sottolineato nel suo discorso d'apertura della mostra di Venezia oramai, cioè al giorno di oggi, la curazione, cioè il fatto che una persona che ha visto tutto tutti i film che è in grado di poter proporne, di proporre un percorso ecco tra la creazione contemporanea e dare un senso a questo percorso è la cosa più importante per gli spettatori per cui noi in quanto festival lavoriamo tra un lavoro verso il pubblico, un pubblico romano innanzitutto e un lavoro verso l'industria e questo lavoro verso l'industria è proteggere i film che ci sono stati affidati e quando si tratta di opere molto piccole si tratta semplicemente di presentare un nuovo autore a professionisti ovviamente il film di 12 minuti non interessa l'industria però i professionisti sono interessati a scoprire nuovi talenti per cui magari questo film di 12 minuti il giovane regista che l'ha fatto verrà poi contattato da un produttore, un venditore principalmente quelli per poi poter lavorare su un nuovo progetto più industri nel suo carattere certo, una funzione di stimolo che è assolutamente necessaria anche per poi portare un po' di quella sperimentazione dentro la stessa industria insomma questo sarebbe il risultato perfetto diciamo almeno l'ambizione dovrebbe essere questa decisamente Lili veniamo allora a questo punto al mondo raccontato dai film della competizione della competizione ufficiale del Festival di Film di Villa Medici perché i temi toccati sono tantissimi è ancora presente la pandemia sebbene in una forma un po' diversa da come magari è stata raccontata soprattutto l'anno scorso quando faceva forse più paura Huppert's Comet è un film che racconta quasi una sorta di voglia di liberazione dal lockdown, dalle limitazioni che questo ha comportato appunto dal virus, dal covid certanto racconto anche delle proprie radici di un legame con il passato in questo caso mi viene in mente Kicking the clouds e come questo viene raccontato all'interno di quella storia qual è il mondo che viene raccontato da questi film e quali sono gli altri temi insomma presenti nella competizione? Beh in effetti c'è quest'anno un filo rosso molto forte perché come dicevo prima la selezione è eclettica questo è una cosa alla quale teniamo molto cioè di poter presentare appunto gesti molto diversi tra di loro e di poter offrire agli spettatori molte realtà diverse però è vero che quest'anno si vede che i registi sono estremamente sensibili alla questione del racconto questa parola inglese che viene usata tantissimo in questo momento il fatto che è narrative il fatto che il racconto è anche un'arma da un lato anche noi tutti ci stiamo lavorando con questo tutti quelli che usano i social quelli che usano Facebook costruiscono un racconto di se stessi personale certo di se stessi oppure la Russia e l'Ucraina ci fanno vedere anche che è anche una guerra di racconti oltre alla guerra reale che uccide persone assolutamente l'abbiamo visto tantissimo hai fatto benissimo a citarlo c'è stata una guerra parallela c'è tuttora una guerra parallela oltre a quella combattuta che è su come viene raccontata effettivamente la guerra sì sì è giustissimo esatto e quindi si vede che i registi che sono come tutti gli artisti sono delle spugne del mondo del mondo esterno e ci ripropongono un'interpretazione di questo mondo in effetti molti dei film che presentiamo hanno questo punto in comune di pensare cos'è un racconto che sia personale o che sia collettivo la rappresentazione per esempio delle minoranze nella storia di un regista sì è tutto c'è il ritratto di una potenza estremamente commovente di una frittrice sieriana che ha fuggito il proprio paese nel 2011 si è esiliata in Francia questo film si chiama Il campo delle parole Lo chant des mots ed è che lì è una riflessione su come raccontare l'irraccontibile come raccontare la guerra come raccontare l'orrore che un essere al quale un essere umano viene confrontato e che irremiabilisci la propria umanità C'è anche il cinema all'interno di alcuni titoli il ruolo che il cinema gioca anche questo mi ha colpito ho contato adesso a memoria ne ricordo almeno due che vedono un ruolo specifico giocato dal cinema all'interno della nostra società anche questo fa parte di quella riflessione sul racconto cioè richiama quello che deve essere il ruolo dell'arte all'interno di questa narrazione che è sempre più costruita anche da parte magari di coloro che dovrebbero invece raccontarci la verità facevi l'esempio della guerra non dovrebbe esserci nulla di più obiettivo nel racconto di una guerra e invece vediamo come anche la narrazione di un conflitto possa essere manipolata e falsificata forse c'è un appello anche in questo senso da parte degli artisti a dire se non viene fatto da chi dovrebbe farlo forse dobbiamo metterci noi a raccontare la realtà sì oppure si potrebbe anche dire che la forza di un artista è appunto di potersi chiedere cos'è la verità cos'è la realtà perché forse non esiste se per esempio c'è questo film tremendamente forte che è anche in concorso ufficiale a Venezia a Saint-Omer di Alice Jobs che è un film su il processo di una giovane donna che ha ucciso la propria bambina quindi un tema anche lì su l'impossibilità di sentire un racconto su questo gesto tabù della sì un tabù un tabù sociale un tabù psicologico c'è un un argomento molto difficile da toccare anche lì qual è la verità di questa donna qual è la verità del suo racconto cosa significa i registi hanno questa libertà di non essere costretti a rispondere o ad essere giudici da dover dire questo è vero questo non è vero loro possono semplicemente fare paralleli e arricchire la nostra riflessione su questi argomenti assolutamente assolutamente sì abbiamo parlato di storytelling nel comunicato del festival si dice appunto come tu prima lo hai accennato lo storytelling oggi la narrazione oggi nel migliore dei casi è uno strumento di lavoro nel peggiore può diventare un'arma da guerra e appunto prima abbiamo fatto il riferimento alla guerra in Ucraina che è particolarmente evidente la risposta che voi avete ravvisato insomma nei film è un tentativo appunto anche di lavorare sui codici del cinema sul linguaggio del cinema per cercare anche nuove strade di utilizzare questo linguaggio nuove forme di narrazione ecco la risposta che esce fuori ce l'hai già data insomma in qualche modo cioè che tipo di linguaggio è che tipo di sperimentazione è una domanda che ti faccio è se questa sperimentazione oggi è resa più facile più possibile dalla tecnologia dal digitale che ovviamente è più facilmente raggiungibile è più facilmente a disposizione o se la tecnologia resta come è sempre stato un puro strumento per cui i linguaggi esisterebbero anche a prescindere da essa diciamo la tua domanda è molto interessante io direi che forse la cosa interessante del digitale è che i registi a quanto possiamo vedere nei film che presentiamo lottano anche contro le rappresentazioni di maggioranza come si diceva sì dominanti le rappresentazioni dominanti quelle più sì sì quindi diciamo i registi nei film che presentiamo lottano contro le rappresentazioni dominanti e in effetti il digitale il fatto di poter prendere una cinepresa e fare un film concede loro di sviluppare un lavoro sul minoritario mettere sul palco sulla scena mettere appunto le nonne vietnamite le nonne indiane degli Stati Uniti cioè tutti questi anche il poliziotto italiano Gigi la legge che ha questo poliziotto di campagna che fa la sua vita è un personaggio che il cinema non guarda mai è il contrario del poliziotto dei film di Hollywood è però un personaggio con una complessità una ricchezza anche molto buffo molto molto divertente molto anche filosofo e tutto questo siccome l'industria del cinema è anche a volte può essere una una macchina di normalizzazione perché sono tantissime step tape di validazioni con gente che si somigliano molto magari alla fine ci si arriva a dei prodotti che si somigliano basta vedere tutti i grandi film dei supereroi Marvel si somigliano troppo alla fine sono troppo uguali tra di loro anni dopo anni sempre uguali mentre i registi hanno appunto un'arma col cinema per poter disproporre rappresentazioni alternative e sviluppare quello che riprendendo le parole di un grande filosofo francese io ho chiamato con le sue parole una morale del minoritario che mi sembra particolarmente adatta effettivamente e su questo argomento Lili come abbiamo raccontato appunto della standardizzazione della normalizzazione come hai detto tu del linguaggio che di solito l'industria persegue il nuovo spazio e le nuove possibilità che finalmente si creano penso a abbiamo parlato di questioni anagrafiche quindi registi più giovani ma anche lo sguardo femminile dietro la macchina da presa il fatto che ci siano sempre più per fortuna registe donne che lavorano e che riescono a far vedere i loro film perché le registe donne ci sono sempre state solo che prima appunto in nome di quella rappresentazione dominante i loro film purtroppo erano relegati magari in angoli bui della produzione cinematografica quanto tutto questo va a sovvertire il codice linguistico del cinema e quindi ad aggiungere nuove possibilità di espressione e anche nuove storie da raccontare di conseguenza io sono convinta che le cose che la nostra posizione sociale determina il nostro pensiero il nostro discorso per cui l'essere donne ne fa parte ed è anche lì una posizione minoritaria rispetto all'essere uomo diciamo ancora ora l'essere neri ne fa parte l'essere poveri ne fa parte l'essere ci sono varie varie vari criteri che ci danno uno spazio nelle dinamiche sociali e in effetti questo cambia il modo di vedere il mondo sicuramente e speriamo appunto ovviamente che questo poi venga tornando al discorso da cui siamo partiti venga recepito anche dall'industria che si faccia carico di questi sguardi nuovi di queste nuove forme espressive di questa nuova capacità di sguardo di sguardo sul mondo l'ultima domanda che voglio farti Lili riguarda le due sezioni collaterali il focus che prevede come lo scorso anno come nell'occasione del 2021 film fuori concorso ma soprattutto la cosa che è stata più interessante lo scorso anno e sono sicuro lo sarà anche quest'anno la possibilità di incontro di dibattito con gli artisti e con i membri della giuria del comitato organizzatore del festival e poi per gli amanti anche del cinema classico ma non solo il piazzale di Villa Medici le proiezioni all'aperto con quello spettacolo meraviglioso che è la facciata di Villa Medici che ospita le proiezioni dell'arena che presenta film in anteprima ma allo stesso tempo anche opere restaurate del passato che cosa troveremo in queste due sezioni allora in effetti le sezioni focus ci consentono di incontrare artisti di lavorare anche sull'interdisciplinarità che è anche uno fa parte del DNA dell'Accademia di Francia di Villa Medici per cui diversi artisti delle arti visive presenteranno dei film li fanno dialogare con altri film eccetera ci sono anche i membri della giuria che presentano il proprio lavoro per esempio Pietro Marcello della giuria presenterà il suo secondo lungometraggio che si chiama La bocca del lupo e a seguire ci sarà una masterclass questo sabato 17 per quelli che non l'hanno visto La bocca del lupo uno dei degli anni 2000 cioè un film imperdibile veramente e poi ovviamente come ha detto lei le proiezioni serali che facciamo ogni sera nei giardini sotto le stelle all'aperto con dei film soprattutto in anteprima che vengono o da Cannes o da Venezia e che devono uscire in Italia non sempre alcuni di loro sono ancora senza distributori italiani per noi anche parlavi di industria prima un modo di introdurli al pubblico anche ai professionisti italiani ogni sera si potranno scoprire dei film bellissimi sempre d'autori però con un tocco grande pubblico e chiudiamo in effetti il festival con la prima presentazione a Roma del restauro di un film romanissimo di Vittorio Desticca che fu il primo premio Oscar per un film straniero della storia del cinema Ciuscia che fu girato nel 1947 un film che ha segnato il neorealismo italiano che è stato uno dei capisaldi ovviamente di quel movimento cinematografico che poi cambiò anche in quel caso a proposito di sovvertimento dei codici linguistici il ruolo che il neorealismo ebbe seguito poi subito dopo dalla Nouvelle Vague fu fondamentale anche per dare un nuovo indirizzo al cinema di quegli anni dagli anni 40 insomma poi per tutti gli anni 50 e 60 beh un programma particolarmente ricco uno sguardo verso il presente ma soprattutto il futuro del cinema tutto questo è il festival di film di Villa Medici io non posso fare altro veramente che ringraziare Lili Hunstein del comitato organizzatore del festival e ci diamo appuntamento lì a questo punto un secondo che forse l'abbiamo persa grazie mille sì eccoci ci risiamo Lili ti avevamo persa per un secondo grazie mille grazie mille Lili e ci ritroviamo ovviamente a Villa Medici grazie mille aspettiamo tutti voi per scoprire questi film ci saremo sicuramente Lili Hunstein comitato organizzatore festival di film di Villa Medici il cinema è un linguaggio fondamentale il cinema ha questa forza clamorosa di essere un'arte ovviamente la capacità ovviamente di provenire dalla genialità della mente di una persona coadiuvata da tante altre persone questo è un elemento che bisogna sempre sottolineare purtroppo un film non è un quadro non è neanche una scultura di marmo per le quali sono tutte opere per le quali basta uno strumento di scrittura che può essere una matita una penna un pennello da una parte appunto per dipingere o disegnare oppure un martello e uno scalpello e un blocco di marmo per essere realizzato una persona può fare autonomamente quelle cose il cinema non si può fare autonomamente una persona può avere l'idea più geniale ma se non riesce a trovare tutta una serie di altre grandi professionalità che lo accompagnano da chi si occupa della parte video e quindi delle riprese della fotografia del montaggio e di tutto quello che c'è dietro fino a chi si occupa della parte audio e quindi appunto quello che dicono i personaggi del suo film la musica che accompagna le vicende di quei personaggi per non parlare poi dell'interpretazione e della recitazione quindi anche lì attori e tutto quello che si muove insieme a loro e intorno a loro il film semplicemente non può essere fatto fermo restando che c'è anche un discorso tecnologico la tecnologia anche quella ha il suo peso costa decisamente più di una matita di un pennello o della vernice per dipingere o di un martello e di uno scalpello su questo non ci sono dubbi il cinema ha questa caratteristica è un'arte che però allo stesso tempo è super popolare parla un linguaggio che tutti noi comprendiamo tutti noi capiamo le immagini che stiamo vedendo tutti noi siamo in grado di ascoltare le storie che accompagnano quelle immagini questo è anche il motivo per cui tutti si sentono in diritto e in dovere di parlare di cinema spesso e questo magari può rappresentare un problema perché non tutti magari ne hanno le competenze ma tutti hanno e devono avere lo spazio per farlo e questo sia chiaro il cinema è un'esperienza che riguarda in primo luogo la nostra personalità e la nostra soggettività e quindi è giusto che tutti la vivano come credono sia meglio viverla questo è almeno il pensiero che abbiamo qui a Sipario questo è quello che vogliamo vogliamo raccontare questo è il cinema che ci interessa raccontare questi linguaggi verranno esplorati continueranno ad essere esplorati continueranno ad essere raccontati qui a Sipario ovviamente oppure a Buio in Sala su Radio Cusano Campus la rete Sorella l'emittente radiofonica Sorella di Cusano Italia TV dalle 20 alle 22 la domenica per quanto riguarda Buio in Sala sempre con me sempre con Piercarlo Fabio intanto però l'appuntamento di oggi con Sipario televisivo per quanto riguarda il cinema su Cusano Italia TV termina qui io ringrazio Federico Ielli che ha curato la regia e tutti voi che avete seguito il cinema anche oggi e avete seguito il cinema su Cusano Italia TV da me da Piercarlo Fabio il mio augurio di una buona serata e buona fortuna e buona serata e buona serata e buona serata e buona serata e buona serata